Altra puntatina molto utile per tanti di noi che probabilmente hanno in mente di fare un bel libro è Amazon è uno strumento eccezionale e con noi oggi c'è Rodolfo, ora Rodolfo lascerò che tutti presenti, che ci spiega come andarla a pubblicizzare quando siamo in self publishing, si dice così Rodolfo? Si dice così, o autopubblicazione se vogliamo fare più gli italiani. Ciao a tutti, io sono Rodolfo Monacelli, mi occupo di marketing editoriale dedicato soprattutto agli autori di libri in self publishing, sia per professionisti e imprenditori sia per chi ha scritto un libro diciamo normale tra virgolette. E sì, uno degli strumenti più, diciamo, importanti per un libro è appunto Amazon, ora magari ne parleremo insieme ovviamente anche ad altri strumenti di marketing, come sempre la promozione deve essere multicanale. Beh, quando dimmi te io presento il tuo schermo e comincio a raccontarci. Iniziamo. Vado, vado, ho chiusato un tasto a caso. Allora, aggiungi al palco, voilà. Voilà. Eh, si vede tutto, sì? Sì, dirai di sì. Perfetto. Allora, una premessa. Questo è un canale dedicato... Guarda, a caso mai prova a zoomare un pochino, non vorrei che chi ci segue da mobile potrebbe avere dei di più. Aspetta un attimo, così? Non ho visto la differenza. Vabbè, comunque si vede. Vabbè. Allora, come dicevo, Amazon è sicuramente lo strumento più importante per gli autori in self publishing. Perché? Perché Amazon ti dà tutto il pubblico il cui hai bisogno è su Amazon. Per qualunque settore, se hai scritto un libro sul marketing, sul coaching, sulla leadership, tu troverai i tuoi lettori e i tuoi clienti successivamente all'interno di Amazon. La questione è come fare, però, intercettarli. Perché, sì, potresti fare delle ads su Google oppure su Facebook o Instagram e indirizzarli ad Amazon. Ma con la pubblicità di Amazon c'è un po' sui più. Infatti tu non li dovrai portare verso Amazon. Loro su Amazon ci sono già in quel momento. Ed ecco che entra in gioco le Amazon Ads. Anzi, per la precisione, le KDP Amazon Ads. Cioè, per tutti quegli autori che sono registrati all'interno del servizio, Kindle Direct Publishing. Cioè, in pratica, chi autopubblica il proprio libro su Amazon. E quindi adesso come dobbiamo fare? Quindi io, cioè, il percorso è, io scrivo il mio libro. Lo metto in auto. Lo scrivi il tuo libro. Vai su kdpamazon.com, lo pubblichi all'interno di questa piattaforma, cliccando su Crea. E qui è la possibilità di pubblicare il libro su Kindle, libro cartaceo, libro con copertina rigida, pagina della collana. Scelgo le opzioni che desidero. Esatto. Poi facciamo un esempio. Crea la versione cartacea. Ok. Non ti vedo, però il mio schermo vedo sempre la stessa schermata. Stai cambiando cose, non vedo interesse. Ah, sì, 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 ho cambiato pagina. Aspetta. Metto la condivisione intera quella lì. Ok. Ora lo vedi? Il secondo. Direi di sì. Ok. Dove ero rimasto? Eh, allora, mi stavi dicendo che pubblichiamo il libro, una volta pubblicato. Ok. Ok, tu ti fai il libro, te lo crei, fai la copertina, guarda le copertine, eccetera. Vai su kdp.amazon.com e qui lo puoi pubblicare. Puoi mettere la lingua, il titolo, la serie se è una collana, il numero di edizione, autore, la descrizione, molto importante questa per la produzione, i diritti di pubblicazione, se possiede i diritti di copyright, magari sì, e via dicendo. E tutte le cose che Amazon ti chiede. Questo è importante, il mercato principale, di mettere, se è il libro italiano, amazon.it. Poi puoi scegliere le categorie, ecco qui, potrai inserire le parole chiave da mettere per far andare inorganico, in questo caso, il libro su Amazon, e via dicendo. Però, a un certo punto, tu lo hai pubblicato, sei tanto contento, però è difficile che avrai, soprattutto se non sei conosciuto, migliaia di persone che andanno sulla tua pagina. Ed ecco qui, che entra in gioco le Amazon Ads. Se vuoi, iniziamo a vedere come funzionano. Certo. Ok. Stai sul kdp amazon.com e clicchi su promuovi e pubblicizza. Ok. Scendi giù qui. Agistisci una campagna pubblicitaria. Devi selezionare il mercato, perché le ads si possono fare una per ogni mercato. Per esempio, se è inglese, magari selezioni anche quello tedefco, francese, italiano un po' meno. Insomma, tutte le nazioni che leggono libri inglesi. Nel nostro caso, un libro italiano, metto amazon.it e crea una campagna pubblicitaria. Scusa, stoppa un attimo. Ok. Voilà. Sì, scusa. Aspetta un secondo, eh? Facciamo così. Vedi sempre? Sì, sì. Ok. Ok. Scusa mia. Ora risolto. Niente, figura. Sì, sì. Ok. Perfetto. Amazon è peggio il suo mondo da sto punto di vista. Ok. Qui, dimmi quando posso partire? Quando vuoi. Non c'è regia. Ah, no, pensavo che avessi stoppato. No, non c'è, non esiste l'opzione. Allora, qui dobbiamo scegliere il tipo di campagna che dobbiamo fare, cioè sponsor product oppure sponsor brand. Sponsor brand è soprattutto per chi ha una collana di libri. Faccio un esempio. Hai scritto un libro sulla SEO, ed è un libro sulla SEO in generale, una sulla keyword search, una sulla link building. Sì. Che possono essere tre libri fatti della stessa collana, quindi dello stesso genere. Sì. E qui puoi utilizzare il sponsored brand. È una sorta di bundle. Ok. Ok, quindi tu vai lì e sponsorizzi tutti e tre i libri insieme. Però di solito si utilizza sponsored product, cioè il libro singolo. Un prodotto alla volta. Esatto. Un singolo libro, sostanzialmente. E clicchi su continua. Ok. Qui siamo nel momento in cui dobbiamo iniziare a creare la nostra campagna. Qui c'è il gruppo di annunci. Puoi chiamare il numero del gruppo di annunci. Io chiamo gruppo. E selezionare il libro. Ovviamente qui magari è scritto tre, quattro, cinque, sei libri e ti dice quale poter selezionare. E io seleziono questo qui. Questo qui che è già selezionato. A questo punto c'è la scelta della tipologia di campagna. C'è il targeting automatico e il targeting manuale. La differenza, come un po' ormai tutte le piattaforme, è che il targeting automatico... Quale suggerisci di usare? Come? Tutte e due. Io suggerisco sostanzialmente di fare tre tipologie di campagna, soprattutto agli inizi, e vedere quale funziona. Una per parola chiave, e dovrei scegliere targeting manuale. Una per prodotti correlati che non sono solo libri. Ma ora magari ne parliamo. E sempre targeting manuale. E il targeting automatico, in cui fa tutto Amazon. Devi selezionare, creare queste tre campagne. E poi andare a vedere quali sono quelle migliori. Ok. Allora, quello automatico non c'è molto da spiegare. Dovrai mettere solo l'impostare l'offerta per definita. Senti, come budget che cosa consigli? Allora... C'è una soglia minima sotto cui... Allora, consideriamo una cosa. Amazon Ads è come Google Ads semplificato. Ok? Quindi, se io metto 20 euro al giorno, non lo spenderò 20 euro. Anzi, se spenderò 20 euro vuol dire che tutti cliccano, quindi figata. Quindi, io suggerisco almeno di 15-20 euro a campagna. Chiaro. Soprattutto all'inizio, perché io all'inizio metto tante parole chiave, metto tanto budget per avere dei dati, da poi ottimizzare la singola campagna. Chiaro. Ok? Abbiamo scelto targeting manuale. Qui ti dice targeting per parola chiave, oppure targeting per prodotto. È praticamente la stessa cosa. Targeting per parola chiave. Qui ti suggerisce l'offerta, ma io sinceramente lo sconsiglio, e metto sempre offerta personalizzata. Inizio sempre con un costo di almeno 15 centesimi. di più è un po' eccessivo. E poi tu devi filtrare per generica, a frase o esatta. Anche qui mettiamo tutte e tre, e poi si vanno a valutare quelle che sono le più performanti. se vuoi spiego che qual è la differenza. Immagino sia come per Google Ads. È la stessa identica cosa. Quindi, poi, lui ti suggerisce delle parole chiave, libri, libro, marketing, copywriting, che per esempio in questo caso non c'entra molto. Quindi, stia, non aggiungiamole tutte, ma andiamole a vedere. Marketing, libri sul business, sì, web marketing, eccetera, eccetera. E vai ad aggiungere, anche qui, generica, a frase, esatta, per le parole chiave che ti è suggerito Amazon. Dopodiché, si vanno a aggiungere, puoi aggiungere le varie parole chiave invece che vuoi aggiungere te. Ok. Quante chiavi consigli di inserire? 10, 20, 30? C'è una best practice? Eh, allora, qui ci sono varie visioni. Personalmente io, all'inizio, ne metto il più possibile. Quante più possibili? Vi sono addettura dei tool che ti danno mille keyword, ma quello mi pare un attimo eccessivo, anche perché alcune keyword non c'entrano assolutamente nulla. Perché soprattutto per il mercato italiano, i tool, anche quando sono italiani, sono comunque orientati alla SERP, diciamo, di Amazon americana. Quindi lui associa delle cose che però non c'entrano niente. Per esempio, fai un libro, guadagnare con la felicità, e lui, come keyword correlate, ti metterà tutte quelle sulla vendita che non c'entrano niente. Quindi io ne metterei un centinaio. Ok, grazie. Ovviamente non per sempre, per il primo mese, poi si vanno a vedere quelle che funzionano e quelle che non funzionano. Ok, quindi... Perché per ogni keyword io saprò quante vendite mi ha generato. Sì, poi saprai anche quanti click, saprai... A quale cosa. Poi magari andiamo... Te lo dico precisamente. Comunque, i dati da vedere sono la vendita e i click. Perché? Perché sono due dati separati, ma che devono essere collegati. Facciamo un esempio. Metto come keyword marketing generica. Ok? E la faccio appunto pagare 15 centesimi. In questo caso c'hai 200 click. Wow! Però c'hai una vendita. E il libro costa 20 euro. Fate i conti se questo... Chiarissimo, chiarissimo. È come per Google Ads. Chiarissimo. Esatto. Poi scusami, mi ero dimenticato, però ora lo aggiungo. Oltre alle keyword suggerite da Amazon, che come detto sono tutte da leggere, tutte da valutare, può inserire un elenco. Questo si fa soprattutto se utilizzi dei tool oppure lo fai anche manualmente. Ti crei un file CSV e lo fai... E ce ne incolli. Ok. No, scusami. Così lo puoi caricare con un modello XLS che ti dà pure Amazon oppure anche con un CSV oppure inserisci l'elenco a manina. Chiaro. Semplicissimo. Poi ci sono il targeting per le... Facciamo un esempio. Facciamo se non ci fa andare avanti. Ok. Ok. Poi ci sono il targeting per le parole chiave a corrispondenza negativa. Io in questo caso suggerisco di... All'inizio di mettere solo parole come gratis, free, per vedere che cosa esce fuori sostanzialmente. No, queste sono le parole... Per cui io non voglio uscire. Non so, libro gratis marketing... Sì, 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 sì. E non gli appare la nuova. Esatto. Esatto. Poi, successivamente, quando tu vai a vedere le parole chiave che magari hanno tantissimi click, ma zero vendite, io le aggiungo. per evitare che questo però non per questo tipo di campagna, ma per quella automatica, perché nell'automatica sarà Amazon a scegliere e Amazon magari ti vede 100 click che ti fa wow, questo paga, però non ha vendite, ma questo gli interessa relativamente. Chiarissimo, chiarissimo, certo. Ok. Quindi, metti queste, eccetera, 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 metti l'inizio, se vuoi la fine della campagna, ma io non la metto mai la fine, metto solo l'inizio, poi la fine eventualmente la blocco io, budget giornaliero, abbiamo detto 15-20 euro, e poi lancio una campagna. Finito. Finito, molto semplice. E per andare a vedere la reportistica, mi appare da qui. No, no, aspettami che volevo un attimo invece farti vedere l'altro tipo di tipologia di campagne. Ah, ok. C'è il targeting per prodotto, ok? Allora, che cos'è il targeting per prodotto? Sostanzialmente, immaginiamo che tu hai scritto, ora dico una cosa, hai scritto un libro per lavare casa, ok? E dici, wow, con questo libro saprò lavare casa in dieci minuti senza fatica. finalmente il segreto definitivo. Però, dove vado a promuovere questo prodotto? Oltre la campagna per le parole chiave che abbiamo fatto, lo posso fare sui prodotti, cioè su libri simili, che è stato lo stesso argomento, ma in questo caso anche su prodotti fisici. Quindi se ho guardato il Dixano, ho acquistato il Dixano. Esatto, di compare la pubblicità del libro. Faccio un esempio che io avevo fatto, per esempio, io andavo a pubblicizzare un libro che era sull'estetica, che era di un estetista, andavo sui prodotti estetici, più che sui libri simili, perché aveva molti più risultati. Chiarissimo. Anche in questo caso si possono fare due tipologie, categorie, cioè per categorie, perché per esempio in questo caso Amazon mi dice libri economie, affari e finanze, imprese, strategie e gestione. In realtà non c'entra moltissimo, però te l'ha messo. Oppure, in questo caso molto di più, informatica, web, digital media, internet. Andatevi a vedere tutte le categorie di Amazon che sono tantissime e ti impazzisci. Dovremmo stare un'ora e mezza solo a vedere ogni categoria e non sarebbe molto divertente. Oppure qua, imprese, strategie e gestione. Per esempio, io aggiungo questo. La puoi anche filtrare. Quindi, metti fascia di prezzo, non lo so, da 10 euro a 22 euro. La valutazione a 5 stelle, per esempio, in questo caso non vado su un prodotto super su 5 stelle, perché magari se ti compra quello, quindi magari vado con 2 stelle e spedizio non me ne frega niente e aggiungo. Ok? Un altro tipo di targeting invece è sui prodotti singoli. Lo si può fare, come detto, sui prodotti, ma anche sui libri. Per esempio, vado su inserisci elenco e metto gli asin. Gli asin sono specifici per i libri. Vi faccio vedere subito cos'è. Come li trovo gli asin? E se la stavo facendotelo vedere, vai su Amazon.ct, non lo so, fai libro, marketing. Ok? Prendiamo questo. Stiamo facendo pubblicità gratis, poi fatti pagare. Allora, ecco qua. Ti dice asin. Lo copi. torni qua e ne metti un altro. Poi ne metti un altro. Questo qua. Vabbè, Philip Kohler. Ok? Anche qui metti l'asin. In questo caso non è asin, ma metti l'ISBN. E via dicendo. Ok? Un altro modo per trovare i prodotti correlati è andare invece su categorie, scusami, aspetta, ecco, su ricerca e metti il titolo. Per esempio, abbiamo detto un libro per lavare casa, Dixan. Non c'è? Detersivo. Forse Dixan non si dice più. No? Ecco, detersivo. Per esempio, mi mette lavatrice, guinosis detergente. Ecco, aggiungo questo. Questa campagna è stupenda. Va dal marketing a detergente. Lavatrice, eccetera, eccetera. Cliccandoci puoi andare a vedere il prodotto. Delicate e colorati aggiungo. Ecco, Dash. Vediamo se Dixan c'è. Ok. Ah, sì c'era. Eccetera, eccetera. Dopodiché, abbiamo fatto tutto e lanciamo una campagna. Wow. Per vedere i dati. Bello come strumento, molto raffinato in realtà. Sì, in realtà io lo utilizzo. poter scegliere che recensioni ha il prodotto mi piace come idea. Lo faccio vedere solo a chi non ha grandi recensioni. Esatto, pubblicizzo il mio libro, non lo so, sulla SEO, perché tu lo dovrai scrivere, lo sai, e vado, che ne so, non vado dai libri super, super strafighi con mille recensioni e tutte positive, ma vado su quelli scarsini. Sì, 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 sì. Questa è una cosa perché io sono un bastardo dentro però. Ok, torniamo alle campagne. e qui si possono vedere i dati. Questa è la campagna perché il libro è vecchio, è vecchia di tipo un anno, però possiamo vedere qui lo stato della campagna che mi dice in pausa, anzi, aspetta un attimo, ok, sì, il tipo di campagna, quindi sponsor product, la strategia di offerta, offerte dinamiche, rialzo, la data di inizio, la data di scadente, perché questa cosa non c'è più, l'hanno tolta, il tipo di budget che era 14 euro per quella app alla chiave, invece 5 euro per quella automatica, si può ovviamente differenziare, il tipo di costo che è sempre uguale, però loro lo mettono, il costo per click, le impression, perché per esempio vedi questa campagna ovviamente perché pagavo di più 61.000 impression, quella invece automatica 14.000 impression. Qui ti dice addirittura la quota impressioni in cima ai risultati di ricerca, quindi 7, 10, paradossalmente questa di più rispetto a quella po' la chiave, il numero di click, 57 e 21, ma anche in questo caso dato che sono due campagne con impressioni diverse, ti devi fare i conti e ti devi vedere qual è quella che ha avuto più click, il tasso di click, infatti 0,15% quella che c'aveva meno impression, la spesa 29 euro e 16 euro, quindi questo mi fa capire già da questi primi dati che questa comunque è più performante rispetto a questa. Il costo per click, gli ordini, ecco, ordini e vendite. Ordini sono il numero delle copie, le vendite, questa è una campagna che è durata tipo 10 giorni per averlo fra il libro che è l'ebook gratuito, le vendite invece è il guadagno sottratto da quello che si prende Amazon. E se voglio vedere i report sulle parole chiave? Sulle parole chiave devi andare su ogni singola parola chiave, vediamo se c'è ancora o l'hanno tolto. Allora, ecco qua, aspetta, selezioni l'annuncio perché puoi fare anche diversi annunci in base a quello che hai scelto, vai su targeting e ti dice tu, qui, per ogni singola parola chiave ti dice il tipo di rispondenza generica o frase, lo stato, beh, sono tutte in pausa, l'offerta che ti suggerisce Amazon, perché avevo messo 60 palazzi? L'offerta suggerita da Amazon è quella che ho fatto io, l'impression, il numero vedi 186, 177, 95, 83 e il numero di click, il tasto di click, la spesa, gli ordini, quindi sotto ci sanno delle vendite, quanto hai guadagnato e l'acos, ecco, qui è, diciamo, un mondo che si apre. Sostanzialmente, l'acos è la percentuale di vendite attribuite che è stata spesa in pubblicità entro 14 giorni riclico su due annunci. una sorta di quando avete presente quando le facebook ads ti dice quanto hai convertito nei primi 14 giorni e qui però ti dà una percentuale. Io consiglio sempre di non, perché ci sono campagne, vanno benissimo però con un acos che sta al 300% quindi è negativissimo e la mia risposta è fregatene. poi sono le le camp lette che cose sono le camp lette quando su Amazon questo solo per le book però ti iscrivi a un programma che si chiama KDP Select che però dà la tu puoi pubblicare il tuo libro solo su Amazon e non su altri store in questo caso tu guadagni anche per il numero di pagine lette oltre che per il libro in sé. Facciamo un esempio io c'è stata quella gente che faceva libri con la I e poi dei tool che leggevano il libro gratuito esatto esattamente questo faccio un esempio vendo il mio ebook a 1 euro e 20 centesimi ok e lui mi compra 20 centesimi mi legge una pagina qui praticamente 0 0,01 centesimi invece mi legge tutto il libro e qui guadagnerò non sono grandissime cifre non sono grandissime cifre devi avere veramente dei numeri enormi per guadagnare però è qualcosa in più se scegli di selezionare il KDP Select l'ho già comunque anticipato il KDP Select è un programma di Amazon in cui devi dare l'esclusiva ad Amazon ma che in cambio ti dà questo servizio ma anche la possibilità di metterlo gratis per X giorni la possibilità di fare un countdown deal con un off-conto eccetera cose che invece se tu non adesci al programma devi fare a manina bello sono molto incuriosi io questo libro prima o poi spero di farlo spero quindi di aver una cosa volevo allora il numero delle keyword perché come diciamo sono veramente tante le keyword da inserire si può fare in due modi ci sono vari tool alcuni buoni alcuni insomma informatevi ce ne sono veramente tanti per la ricerca delle keyword però come dicevo il problema è sempre che diciamo sono settati per il mercato americano quindi trovare keyword italiane è molto molto più difficile il programma in alcuni casi non capisce quello perché la lingua italiana è molto più complicata di quella basica inglese guadagnare per loro vuol dire guadagnare in italiano un titolo guadagnare può essere guadagnare le emozioni guadagnare l'amore cioè fa veramente confusione un altro modo più lungo quindi comunque andarsene a leggere tutte non prendere il file e metterlo ed è comunque un lavoro altrimenti c'è un lavoro che dice che è la ricerca manuale faccio un esempio abbiamo trovato un libro con il suggeritore sì ma non solo la prima cosa che io faccio è andare a leggermi il titolo e questa cosa qui la descrizione perché all'interno di questa descrizione ci saranno certamente delle parole chiave facciamo vediamola quando ecco marketing 3.0 ha diffuso tutto il mondo l'idea del marketing umanistico e mi prendo questa parola chiave informazioni ok decisioni d'acquisto e mi prendo queste parole chiave e me le metto in un file andiamo a prendere poi le singole parole chiave che abbiamo trovato marketing umanistico inizio allora aspetta che se no ok ok umanistico a b facciamo marketing più semplice in questo caso a e mi cerco tutte queste parole chiave b mi segno tutte queste parole chiave mi segno tutte queste fino alla z dopodiché come detto vado a prendere quelle parole chiave che abbiamo trovato se non si trova la ricerca correlata però ci saranno altri libri magari wine marketing eccetera ecco social mediamente e vado a rifare la stessa cosa so se è chiaro il procedimento direi proprio che sì ok questa cosa per ogni singola parola chiave quindi alla fine ce l'avrà i due trecento parole chiave da inserire personalmente io mi devo sempre meglio con questo sistema che è certamente più lungo non ci metti venti minuti però comunque è più sensato la stessa cosa lo devi fare ovviamente con il microdecibore questo è Amazon ah che bello dove stai? sono a Bologna in realtà vicino all'aeroporto aspetto che mi riposizioni via mi devo convincere a scrivere un libro allora aspetta scelgo lo schermo e vedo che hai tolto la condivisione è finito cioè è una sorta di Google Ads molto più semplice perché ovviamente essendo più semplice però ecco ora diciamo il difetto di Amazon qual è il difetto di Amazon in Italia perché negli Stati Uniti è diverso non puoi mettere il copy e non puoi mettere le immagini ti verrà solo l'immagine della copertina il titolo del libro e sotto una leggera riga della descrizione che hai inserito questo è quindi questo che vuol dire che devi avere una copertina che spacca e un titolo che interessa un'altra cosa questo pare anche per la SEO credo certo certo un'altra cosa da quando non fare le Amazonas ovvero quando hai una copertina che non scelta quando quando non hai una bella descrizione del libro con anche delle keyword e delle call to action al suo interno quando non hai recensioni e le prime recensioni allora come le prendi? prima di finire con le cose quando non hai le valutazioni che deve raggiungere almeno il punteggio di 4 e mezzo punto 5 più o meno in media e quando non è ben posizionato cioè il libro deve essere comunque già posizionato bene devi avere diciamo proprio per sentirti tranquillo almeno 10 recensioni come fare ad avere 10 recensioni? devi andare su altre piattaforme avrai una lista di clienti gli chiedi di comprare il tuo libro in quel caso lo puoi mettere se vuoi puoi utilizzare KDP Select anche solo per un breve periodo lo fai scaricare gratis magari le book perché facciamo sempre book e cartaceo e poi ti fai lasciare la recensione altro modo ovviamente lo puoi pubblicizzare sui social su LinkedIn Facebook Instagram puoi fare le ads eccetera eccetera quando raggiungi un certo numero con curiosità se io metto il libro in vendita ipotizzo 30 euro ho bisogno di mandarne una ventina gratuiti a qualche mio amico lo posso fare o me li devo comprare da solo? te lo devi comprare da solo ok allora ecco un consiglio quindi faccio il KDP Select all'inizio faccio 30 libri poi lo tolgo però è solo il book attenzione è solo il book una cosa su quando per esempio se vuoi fare una presentazione dal vivo ovviamente c'è bisogno delle copie Amazon non è un editore che ti viene lui con le copie ma te le devi comprare un suggerimento Amazon spedisce dagli Stati Uniti quindi quindi le spese di spedizione non sono quindi evitare di comprare 10 copie alla volta si fa un bell'ordine non so hai 4 presentazioni oppure lo vuoi regalare a 40 persone fai un ordine unico te le fai mandare fai che spese di spedizione una volta altrimenti non se ne esce vivi chiarissimo chiarissimo grazie una domanda perché sono uscito vivo dopo 6 mesi di guerra con un grafico per un libro per un cliente quando vi affidate un grafico per l'impaginazione e per la copertina ditegli di andare a vedere le note di Amazon perché la copertina quanto è figa però Amazon certe cose non le accetta magari le dimensioni magari il taglio della pagina magari tutte cose da grafico che però Amazon fai delle regole e non te lo pubblica quindi dovresti poi andare tutto a modificare l'impaginazione a modificare la copertina quindi vi andate a vedere le regole di impaginazione della copertina di Amazon e le date al grafico grazie mille c'è un sacco di roba da imparare ho imparato una cosa il giorno che faccio un libro ti chiamo perché da solo non lo fanno questo è la cosa principale Rodolfo grazie mille è buona mezz'ora ci salutiamo dietro e per chi invece ha seguito la live per qualsiasi cosa nella descrizione del video metterò tutti i contatti di Rodolfo Rodolfo mandameli dopo ce l'incollo certo e insomma io ci credo tanto in la tua pubblicazione l'ho sempre preferita anche perché ci si guadagna di più per cui mi chiederebbe provare c'è più lavoro però eh sì ciao 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 grazie a tutti grazie a tutti